Presidente, vi avvicinate a questa domenica 22 settembre, una festa per voi importante, perché? È importante perché dobbiamo continuare a sensibilizzare le persone a donare sangue. Siamo in un periodo un po' difficile, in quanto il ricambio generazionale stenta, stenta. Le persone da interpellare e portarle nel percorso che porta a quel gesto straordinario, che è la donazione del sangue, sono sempre meno. Gesto straordinario non solo per chi riceve, ma anche per chi dona, perché ricordiamo che ci si vuole bene, perché bisogna fare tutta una serie di esami che alla fine sono un po' un controllo della propria salute. Certamente, oltre al grande gesto straordinario che serve a salvare la vita alle persone, c'è da dire che ogni volta che il donatore compie questo gesto, viene controllato sistematicamente il suo stato di salute. Tengo anche ad aggiungere che il donatore una volta all'anno ha diritto di avere l'esame completo del proprio sangue. Chiunque vuol donare, possiamo ricordare che ovviamente ci sono le associazioni sul territorio come la vostra, in questo caso la Fratres di Rigutino, ma anche i centri negli ospedali, giusto? Certamente. Tutti i martedì e i giovedì siamo presenti nella sede per contattare i nostri donatori. Vi aspettiamo. Non dimenticate mai che una donazione di sangue può contribuire a salvare una vita. Grazie.